Siostock, ciao a tutti. Avanti ieri a Parigi si sono avuti proteste e scontri tra migranti più immigrazionisti e polizia. Vi ricorderete che giorni fa ho raccontato lo sgombero traumatico della tendopoli di Saint-Denis, sotto al cavalcavia dello Stade de France. Siamo a nord della capitale francese. Parigi, la Francia e il suo presidente Emmanuel Macron non sanno cosa fare degli immigrati, che o costruiscono le bidonville a Calais nella speranza di andare nel Regno Unito illegalmente o si affollano nelle grandi città francesi dove ricevono più assistenza. Il coronavirus ha complicato tutto. I 3000 di Saint-Denis sono traslocati in pieno centro, a Place de la République, con tanto di tende al seguito. Ovviamente è stata una provocazione, organizzata da ONG ed estrema sinistra politica. La polizia non ha usato la stessa forza usata contro i cosiddetti negazionisti del virus qualche giorno prima. Mascherine e distanziamento non sono obbligatori tra i migranti. Il ministro dell'interno, Gérard Darmanin, si è detto scioccato dal trattamento degli immigrati, dalla violenza della polizia. Ho chiesto al capo della polizia un rapporto dettagliato sui fatti, dice. Prenderò delle decisioni. È evidente la pressione dei legali dell'ONG, come Utopia 56. Il politico comunista Yen Brossat, lì presente, boccia gli sgomberi. Ci vogliono subito gli alloggi per i migranti, afferma. Liberali, Antifa e ONG uniti dall'accoglienza di persone senza documenti validi, uniti dalla lotta contro la cosiddetta polizia fascista. Ovviamente anche i giornalisti si sono lamentati della brutalità degli agenti. Dopo la rimozione delle tende, si è organizzata una manifestazione di piazza dal motto «Solidarietà con chi è senza documenti». Questa rabbia, questa reazione, non la vedremo mai ad esempio per un professore decapitato, mai a difesa della cristianità e delle feste come quella del Natale. La tensione cresce subito, si incendiano cassonetti e iniziano le cariche della polizia. L'Europa dell'Ovest dovrebbe smetterla di accettare il suicidio chiamato accoglienza, smetterla di dare lezioni di umanità al gruppo di Vicerat, come a Polonia ed Ungheria, e iniziare a pensare agli enormi problemi sociali all'interno dei propri confini.